Trasferta Mara per la Polisportiva Santa Maria sul campo della città di Sant'Agata. La partita è stata vinta dai siciliani per 5 a 2. Alla prima fondo la Polisportiva Santa Maria passa in vantaggio con l'asse Johnson Tandara e il numero 9 giallorosso a trafiggere il portiere avversario. Il pari del Sant'Agata giunge al diciottesimo. Squillace inventa una parabola perfetta per Vitale che di testa supera Cannizzaro per il pareggio. La gara cambia al dodicesimo quando il direttore di gara assegna un rigore molto dubbio alla Sant'Agata. Bonfiglio dagli 11 metri si presenta e batte Cannizzaro per il vantaggio della città di Sant'Agata. Nemmeno il tempo di reagire che la Polisportiva Santa Maria subisce anche il terzo gol. Calafiore pesca in approfondità Bonfiglio che a tu per tu con il portiere sigla la sua doppietta personale. Il poker è servito al ventitresimo. Da calcio d'angolo prima De Moleon colpisce il palo poi sulla ribattuta e Calafiore il più lesto di tutti a depositare il pallone in rete. Il Santa Maria prova a riaprire la gara. Buon traversone di Catalano da calcio d'angolo e Johnson di testa pesca l'angolo per il 4 a 2. Ma la Sant'Agata segna ancora. Calafiore tutto solo. In area di rigore batte Cannizzaro per il 5 a 2. Finisce dunque 5 a 2 per i padroni di casa per il Santa Maria. Subito testa alla Cittanova.